il corpo al centro dell'inverno fa il suo giro mentre le vite passano nelle stravaganze oltre che nell'ordinario c'è chi porta a passeggio quattro cani legati ad un guinzaglio e suo mestiere e c'è chi invece coglie l'occasione per tagliare una gola in questo lento voltare del sole arrivano enormi lenzuola di luce qualcuno chiude gli occhi altri li aprono di più